Ah, sono zombie, attento, 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 ah ci sono le formiche giganti, oh no, dove si è caduta? Gabbinetto nel gabinetto, ahahah, benvenuti in solito stories, oggi nuovissimo escape room, dovremo scappare dalla scuola piena di zombie, quindi dobbiamo scappare dagli zombie, lascia un mi piace qua sotto entro 5 secondi se non vuoi anche tu essere in seguito dagli zombie, 5, 4, 3, 2, 1, Tempo scaduto, se non sei riuscito a lasciare un mi piace arriveranno gli zombie anche da te, mettetevi comodi, prendete i pop corn e iniziamo assieme a questa nuova escape room, eccoci qua, io ho le ali da fatina nuovamente, quante volte si sfraccellerà questa volta vitale? Mi sono già sfraccellato nel pavimento, ma come? La scuola è infestata dagli zombie, dobbiamo scappare da qui, ok io inizio a scappare, ciao, guarda, Guarda, alcuni degli zombie sono qua, per fortuna ci sono le grazie, sono le grazie, stanno perdendo dello slime, no, quella è la bava di zombie, penso, anche qua c'è un po' di bava di zombie, ecco, primo sfraccellamento di vitale compiuto, non ho idea di cosa stia succedendo, di cosa sia successo qua, che cosa è successo? Ci sono delle matite, guarda, gli zombie sono laggiù, guarda, una gomma gigante, la vedete anche voi questa parte blu? E voi quando cancellate con la parte blu della gomma per cercare di cancellare la penna, poi vi si strappa tutto il foglio? Guarda, c'è un altro zombie qua sotto, sì, l'ho vista, l'ho vista, entriamo nella grata, entriamo nella grata, ok, non vedo niente, oh no, attenta, attenta, dove sei? C'è una ventola, la ventola mi ha affettato, ma dove sei finito? Hai preso la ventola sbagliata, io ancora non mi sono strappellata, modestamente non mi sono ancora strappellata, avete visto la vitale, come è entrato qua? Sono caduto, qua il pavimento è lava, sì, attento, dice di premere questo bottone, ci fidiamo o non ci fidiamo? Sì, dai, perché, che cosa dovrebbe... Ah, c'è il cibo, non ci credo, questo bottone era apposta per vitale, pieno di cibo, guarda, c'è la torta, c'è un cibo, non prendere il rosso, non prendere il rosso, sono caduto sul rosso E in quale vado, proviamo il giallo... No, non è il giallo, ok Io ho una tecnica per queste cose, lascio andare avanti gli altri giocatori e così scopro, non è quello giusto Oh, un cuirigneto di cioccolato gigante, non l'ho visto, che voglio un pezzo Quello, è una fontana di cioccolato Sì, devi stare attenta a quando salti qui su queste mattonelle Wow, commetto che a vitale sta venendo un sacco di fame, è vero? Sì, soprattutto con il cioccolato Ah, che cos'era questa? Eccomi, dove stai andando? Qua sotto Uh, qua il calecco Nooo, anch'io mi sono sfragellato Piano piano, vai piano Ok, ok Arrivando, aspettami Dai, ti aspetto qui Eccoti Guarda, là c'è l'altro passaggio per il portale, dobbiamo arrivare là per tornare dove eravamo prima Via, scappiamo, scappiamo Anche se vitale vorrebbe rimanere qua E via E via Ma non siamo tornati dove eravamo prima, stiamo a scuola C'è una lava qui Sì, il pavimento è lava Guarda, gli zombie qua dentro Dove? Mi sa che gli zombie ci aspettano fuori dalla scuola Sembrano molto arrabbiati E allora scusa, rimaniamo nella scuola? Cos'è questa? Questa forse era la mensa Ma non c'è più nessuno Gli zombie si sono mangiati tutto e tutti Ah, gli zombie Attento, attento, attento Non farti prendere No, no, no Ti ho superato zombie Non mi hai preso Dai, 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 vieni qui Sono veramente inquietanti i versi degli zombie Sono dei mostri Brava Andiamo Ma ancora Siamo ancora dentro alla scuola Dove stiamo andando? La libreria della scuola Wow Stai molto attento quando salti qua Ok, ah non l'avevo vista Bravissima Ho visto qualcuno cadere Era ancora vivo Dai, sono caduto poche volte per il momento È solo che questo escape room è un po' più facile Ecco, i tritatutto con cui vogliono affettarci Ah Oh, qua ci sono due zombie Attento Salviamo Attento Ma passiamo da sotto? Sì, secondo me è più facile Invece che saltare sopra Io Yeeey Bravissima Wow, non capisco se questo escape room che è facile Lo siamo noi che siamo diventati bravi Il laser mi ha affettato E invece ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta? Non ci credo Ce l'abbiamo già fatta? Vediamo No, no, c'è ancora qualche ostacolo Che cos'è questo? Un tombino? Eh, non andare sul tombino No Uh, che cos'è quella roba? Verde E sarà tipo lo slime zombie Oh no Piano Queste sono quelle che ti piacciono a te Vabbè, io odio questi che devono stare in equilibrio Uh, dai, è stato facile fino adesso Vedo il medaglione Davvero? Il medaglione Il medaglione Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta Devevo prendere il medaglione prima di Vitale Eccomi Prendiamo il medaglione Sì Anch'io l'ho preso Siamo riusciti a scappare dalla scuola Della scuola di zampi Yeah Visto che siamo riusciti a scappare così velocemente Scegliamo un altro해야 Screen Allora, io mi sceglierei questa col gelato Ma io voglio questa con la pizza invece E andiamo a quella con la pizza Dai, via Dove siamo finiti? Non ciò Guarda c'è una pizza gigante Ma è un ristorante Oh che bello questo, che carino Dobbiamo saltare sui coltelli? Ehi, Vitale sta già andando per mangiarsi tutta la pizza E certo Vitale si vuole mangiare Ma basta, non le voglio comprare queste cose Uffa Vitale che mi supera Tra normalmente Vitale in queste escape room in cui c'è il cibo Riesce a superarmi, andare velocissimo E attento a non farti arrostire No, mi ha preso la forchetta Ho capito cos'è questo escape room Vogliono mangiarci, arrostirci Tutta piena di cibo No Ma è difficile Quella di prima era molto più facile No Sono caduta anch'io Uff, vi ricordate questa musica Prima la usavo sempre nei video di anni fa No, veramente Sto odiando queste forchette Difficilissimo tra l'altro Sono ancora ferma le forchette Davvero? Io ce l'ho fatta invece Non ci crede, hai superato tutto? Sì, sì Sto arrivando Dai, dai, ti sto aspettando qui Ti vedo che stai saltando Dai, dai, te ne mancano pochi Dov'è il punto per salvare? Lì dove sono io Qui di fronte a te Salta Attenta 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 Uh, brava Uh, ora siamo dentro un hot dog Wow No, è troppo difficile Non posso salire nel pane qua? No Brava Uh, ora sulla forchetta Stiamo attenti a non cadere adesso Ehi, ma dov'è il pezzo per salvare? Ma devi salvare Uffa Vediamo Qua dopo Dopo queste bibite Dopo il ghiaccio Ok Dai Ci siamo quasi Ci siamo quasi Sì Salvato Allora io vado con la forchetta centrale Sì Quella giusta Sì Quella a destra Ok Vediamo se riesco a capire qua Vitale si è sacrificato Sì Quella a sinistra Uh, su un cucchiaio qua ci sono i cereali Che carini Ecco Vitale che sta andando a mangiare Già Andando a mangiare Dai, devi saltare sui cereali Puoi farcela Aspetta Sono ancora su un cucchiaio Non ce la faccio Casco sempre nel latte Wow Sto salendo sempre più in alto Sto arrivando Uh, là c'è il ragazzo Che sta mangiando la pizza gigante Non mi dire Non mi dire Ho come l'impressione Che entreremo nella sua bocca Allo stesso No No, non mi piace Questo non mi piace Che bella questa crostata gigante Crostata Dove sta la crostata? Arrivò, arrivo, arrivo La crostata Non ti farei distrarre Che buona La crostata Wow Sono sopra la bottiglia Ma dov'è Vitale? Sono qui sui lecca lecca Ah, eccoti Dov'è il cosetto per salvare? Eh, infatti Non c'è Noo Cerca di non cal... Ma qua dove devo andare? Ehm... Dobbiamo saltare dentro il cestino? Ehm... No, forse... Nel tuo cestino Dobbiamo saltare? Eh... Ehm... Ah, ci sono le formiche giganti! Oh no Ma come si muovono queste formiche? Aiuto Ah, hai salvato, hai salvato Ah, bravo, bravo Devo salvare No, vabbè Ci vogliono mangiare le formiche giganti Attento Un peperoncino Ci mangiano le formiche Quindi siamo dentro al cestino del picnic Eh sì In cui sono entrate le formiche Ok dai, siamo riusciti a passare forse Wow, dobbiamo salire sopra gli oreo Oh, oh, oh Aspetta E attento alle formiche Dove sei? Sul primo oreo No, sul secondo Sì! Eccoci qua Siamo riusciti a superare il cestino Siamo sulla mela Uh, salviamo subito Sì, sì, sì E ora saltiamo sui panini Uh Dai, ci siamo quasi, ci siamo Uh Ehi, aspetta, mi sono arrivato No, no, mi sto mangiando la crostata Come? Hai già la crostata? Sì, sì, l'ho già superata Oh, che bella Dai, vieni a salvare qui Un pezzo di corsa gigante Siamo quasi arrivati alla pizza Che fame che mi sta venendo Ci stiamo avvicinando al ragazzo che non so cosa vuole farci Forse è come il ragazzo mangione Avete visto l'episodio delle skip room del ragazzo mangione? Che ci ha mangiato? Faceva troppo ridere Vabbè, io salto sugli ingredienti e vediamo Ah, bisogna salire sulla mozzarella e dal formaggio qua Dove sei? Sono sfracellato tra il pomodoro e il formaggio Tu sei troppo detrato dal cibo Ecco qua, Vitale Siamo pronti a salire nella bocca Io vi ho fatto qua La pizza C'era qualcosa di strana nella pizza C'erano i capelli Eccoci qua, lo sapevo Guarda che gola grande Le tontille Come si chiama questa? Lugola Lugola Vediamo che cosa ha mangiato adesso Ha mangiato dei pezzi di laser E qua Dobbiamo stare attenti Ma cosa si è mangiato? Una chitarra intera? Una chitarra? Sembrano le corte della chitarra Nooo Dobbiamo questo Sì Andiamo al centro Sì Era quello al centro Siamo arrivati Siamo arrivati al punto preferito di Vitale Non mi piace In questo punto non mi piace Uh, non mi sono ancora sfraccellata Dai puoi farcela No No E' qui E' qui Non ci posso credere Penso che stiamo in bagno Penso perché in genere Dopo Attenta Dove sei caduta? Sto finendo nel gabinetto Siamo stati sparati nel gabinetto Io no Sono ancora qui Non riesco a scivolare Dove sei? Stiamo feriti nelle foglie Dove sei? Dai Siamo qua nelle foglie Aiuto Oh che cosa orribile Salgo qua sopra Uh, forse Forse ce l'abbiamo fatta Vediamo 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 Eccoci qua Forse ce l'abbiamo fatta Uh, attenta Purtroppo Vitale è rimasto bloccato nel gabinetto Non sappiamo il perché Ma è rimasto bloccato lì Non riesco ad andare avanti Devo finire io L'escape room Uh Attenta alle macchine No vabbè Difficilissimo Ah quindi questa è la supercorsa Sì Aiuto Chiaro Chiaro No Farcela Dai 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 Ci sei quasi Sì Attenta alla macchina Aiuto Uh, brava Sì Oggi abbiamo collezionato due medaglioni Salviamo E' medaglione Che non è anche troppo completato Anche se mi dispiace per evitare che è rimasto bloccato in bagno Lassate un bel mi piace per altri skip room Ora vi lasciamo qua 4 cancelline su cui cliccare per vedere i nostri altri video Cliccate su quelle che preferite Buona visione Ciao